I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata su richiesta della Procura nei confronti di sette indagati ritenuti responsabili di detenzione, spaccio di cocaina, crack e marijuana. Le indagini svolte da parte dei militari della Compagnia Oplontina e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata hanno permesso di monitorare circa 500 episodi avvenuti in meno di due mesi nella città e in altri comuni dell'area vesuviana. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte nei mesi di ottobre e di novembre del 2020 gli indagati avevano avviato una fiorente attività di vendita di sostanze stupefacenti cocaina, crack e marijuana all'interno del quartiere Provolera del centro storico Plontino anche con la consegna dello stupefacente a domicilio effettuata anche in altri comuni dell'area vesuviana. Molto particolare è il gergo utilizzato dagli indagati per contrastare le attenzioni investigative utilizzavano infatti il termine Pagnale di derivazione ROM per segnalare la sospetta presenza dei carabinieri nell'area dedicata allo spaccio e facevano anche spesso riferimento alle distanze chilometriche o ai minuti necessari per raggiungere un determinato luogo per indicare il quantitativo della droga oggetto delle contrattazioni. Nonostante le cautele adottate dagli indagati capaci di muoversi riservatamente in un'area ad alta densità abitativa e ad elevato indice di criminalità le indagini svolte dai carabinieri hanno consentito di accertare in meno di due mesi di indagine circa 500 episodi e di procedere a diversi sequestri.